In collaborazione con Glam Vision e K. Fakli. Caro energia, impiantisti, panarotta chiusa, una sorpresa perché è 100% pubblica. E sull'acqua c'è difficoltà, questa stagione non si può sprecare nulla. Invece Folgaria spegne l'illuminazione pubblica. Nei primi sei mesi dell'anno spesi 60.000 euro in più rispetto al 2021. Music Arena, eventi da 7.000 a 20.000 spettatori, ma la provincia potrà organizzare manifestazioni straordinarie. Un bando di Trentino Marketing per la gestione dell'area. Facciamo Squadra, al via la campagna di sensibilizzazione per la donazione di Plasma. L'appello delle associazioni, abbiamo bisogno di nuovi donatori. Olimpiadi Milano Cortina, il presidente di Belluno suona la sveglia. Tutto fermo, non sembra che tra tre anni ospiteremo i giochi. I difetti visivi sono tanti. Miopia, stigmatismo, ipermetropia. Il pregio è correggerli con occhiali davvero glam. Con Glam Vision puoi prenotare l'analisi gratuita della vista e poi sfoggiare i tuoi nuovi occhiali che possiamo creare per te. Scopri di più su Glam Vision.it